E' tutto pronto per il primo Basilicata Bike Forum? C'è la voglia di raccontare questo settore e soprattutto il territorio insieme alla vicina. Sul cicloturismo abbiamo cominciato a investire già durante il Covid, subito dopo il Covid, e abbiamo avuto i nostri risultati e le nostre soddisfazioni, sia come APT che come imprese e come territorio. Quello che facciamo con il Basilicata Bike Forum è rilanciare e cercare di creare delle connessioni non soltanto con il cicloturismo to cure, ma anche con il miglioramento del modo di raccontarsi, del modo di fare accoglienza. Proprio con la volontà di creare questa occasione di crescita delle nostre imprese, oltre al forum rivolto a tutti, abbiamo previsto anche un workshop dedicato solo agli operatori. I temi che verranno trattati saranno temi legati alla comunicazione, temi legati all'accoglienza, all'innovazione e la volontà è proprio quella di creare un'opportunità in più per il nostro territorio, per crescere, per farlo conoscere, per posizionarsi nel mondo del cicloturismo. Verranno a tal fine, verranno anche dei giornalisti di settore che verranno accompagnati con i nostri testimoni a visitare non soltanto Matera, ma anche dei luoghi della nostra Basilicata. I testimoni all'eccezione saranno Patrizio Roversi come conduttore, ma poi Vittorio Brumotti che farà le sue acrobazie in lungo e in largo per la nostra tempra.